La questione vaccini continua a far discutere posizioni contrapposte. Un pericolo per la salute oppure una risorsa da utilizzare, seppur con tutte le cautele del caso? Ed è per cercare di fare maggiore chiarezza che l'AMPAS ha deciso di organizzare un convegno nella sala polifunzionale di Pineto. Tutte le società scientifiche nazionali e internazionali concordano nel dire che le vaccinazioni sono utili, necessarie e non basta però l'obbligatorietà che una legge dello Stato ha posto su 10 vaccinazioni obbligatorie. E' necessario anche che ci sia una grande e importante campagna di informazione, sensibilizzazione, coinvolgimento dei genitori, semplificazione dal punto di vista delle attività dei servizi. Peraltro adesso c'è anche, per quanto riguarda le scuole, questa nuova introduzione dell'autocertificazione che potrà bastare. Noi in Abruzzo stiamo facendo di più. Il Dipartimento della Salute con il servizio regionale della prevenzione ha preparato un protocollo di intesa tra la sanità regionale, le ASL e l'ufficio scolastico regionale proprio per semplificare e alleggerire l'impegno che i genitori e le famiglie devono fare per questa documentazione. Una volta che nei prossimi giorni avverrà questa firma, l'ufficio scolastico regionale darà disposizione alle istituzioni scolastiche, ai servizi di infanzia, di procedere a trasmettere l'elenco degli iscritti alle ASL e le ASL provvederanno a trasmettere la documentazione di cui gli uffici scolastici avranno bisogno senza affaticare, appesantire e creare disagi ai nostri genitori. La questione sul tavolo però rimane viva e il professor Fabrizio Pregliasco, presidente nazionale Ampas, ha cercato di dare delle risposte a chi ancora nutre forti dubbi sulle vaccinazioni obbligatorie. I toni attualmente creati anche dai media, come sempre, che radicalizzano le posizioni, a mio avviso ha appesantito quelli che sono i dubbi rispetto a una quota parte di popolazione, comunque minoritaria, rispetto alla sicurezza ed efficace utilità dei vaccini. Io credo che senza gli eccessi di alcune contestazioni, io stesso sui miei social ho subito delle ingiurie ingiustificate, ma con una discussione e quello che, come sempre si dice a livello della medicina generale, è un'alleanza terapeutica per dimostrare che qualche evento avverso i vaccini ce l'hanno, ma assolutamente irrilevante rispetto ai vantaggi. Dunque i vaccini sono un pericolo o una risorsa? La domanda l'ho voluta io nel titolo e io dico sono una risorsa, una risorsa da gestire, da monitorare, ma sicuramente con un vantaggio positivo.